Ciao a tutti, popolo del tubo e bentornati sulla Chiarello Farm ragazzi. Allora, è tempo di semina. Abbiamo preparato tutti i campi, abbiamo già seminato il mais, abbiamo liquamato, letamato, buttato calce, erpicato e quindi si parte con la semina. Cosa dobbiamo seminare? Sto facendo un piccolo riassunto. Dobbiamo seminare cereali, ci serve la farina e quindi ci serve l'orzo e il frumento e il risetto perché abbiamo sistemato una risaia vicino al campo, vicino dico alla farm e quindi dobbiamo seminare un po' tutto. Chiusa la parte della semina possiamo mandare avanti una giornata di gioco e cominciare, continuare con i trattamenti dei campi e cose varie perché abbiamo lasciato il mod e quindi qui i trattamenti servono, non sono solo figurativi. Come vedete mi sono quindi armato di una seminatrice in più perché ovviamente dovrò mettere l'operai negli altri campi. Ho comprato una bellissima gaspardo dama, abbiamo già la gaspardo pinta in farm e quindi ragazzi iniziamo con il frumento. Diciamo che è la cultura che ci serve, frumento ed orzo ragazzi, frumento ed orzo. E quindi iniziamo. Questa seminatrice non richiede grandi cavalli, bastano 100 cavalli, questo trattore qua ne ha tipo 250, non mi vorrei sbagliare. E quindi va bene così, siamo sempre nel realismo ragazzi. Perfetto. Guardate, 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 che realismus, che realismus, bello, bello. Allora, abbiamo finito la prima strisciatina. Ok, perfetto. Perfetto. Ok. Non so lì che cosa c'è, c'è un avvallamento lì ragazzi. Allora, ci mettiamo così, facciamo la seconda strisciatina. Penso che non ci metteremo tanto a fare questo campetto. Sì, lo so che forse dovrei mettere l'indicatore di porche e lo faremo. Lo faremo tra poco quando andrò a fare l'inquadratura interna. Perché sapete ragazzi che a me piace portarvi le varie inquadrature diverse, perché così ragazzi il video riesce sicuramente più carino, riesce meglio. Ammazza che polverone che sto a fare. Beh, per forza quella chiarello non piove mai. Eh, qui ragazzi non piove mai alla chiarello, quindi dove tutto è più bello, non piove mai. Vabbè, c'è una siccità assurda. Ma comunque, diciamo, rispecchia benissimo il clima dell'Italia ultimamente. Perlomeno qui al centro la pioggia è un ricordo lontano, no? Io sento proprio le persone che dicono, ma ti ricordi quando cadeva l'acqua dal cielo? Uh, cadeva l'acqua dal cielo, ma dai, capito? Quindi succedono un po' quelle cosine lì. Allora, perfetto. Mamma mia, guardate che inquadrature che vi regalo. E più che altro non potete capire quanto cacchio è difficile andare dritti con queste inquadrature. Ecco, infatti penso che state osservando, insomma, quanto io sto andando storto. Però adesso arrivati giù al campo, ragazzi, giù a fondo fila, diciamo. Come si dice? Fondo fila, no? Andiamo a mettere l'inquadratura interna con tutto l'indicatore di porche. Facciamo una cosettina realistica. È un pochetto più lenta come procedura, però senza dubbio è più reale. E sapete che Robertino vostro ama molto il realisbus. Ok, così. Perfetto. A posto. Stop. Alziamo. Perfettissimo. Perfettissimo. Ok. Allora, entriamo dentro. Ah, questo qui non ho erpicato. Vuoi vedere che la seminatrice non... Non... Non manda via la... La cosa. Vabbè, comunque sì, me l'ho capito da solo. Ok. Accendo e abbasso. Ah, cacchio, ho già finito i semi, tra l'altro. Mi tocca andare in farm a fare un altro carico di semini. Vabbè, così ne approfitto pure per mettere l'operaio sull'altro campo. Ok, ragazzi, stiamo andando... Stiamo andando bene. C'è anche l'indicatore di porchette. Perfetto. Beh, dai, non è tanto difficile. È un pochino più... È un pochino più lento come procedimento, ma va bene. Va bene così. Ragazzi, guardate tutto sto bel riso marcito qua. Il gestore di sto campo l'ha abbandonato. Non ho capito perché questo ha abbandonato tutto il campo dell'isola, l'ha lasciato lì. Boh. La gente, ragazzi... La gente è tutta pazza. La gente è tutta pazza. Ok. Sapete che faccio? Invece di andare in farm, mi faccio venire qua. Faccio venire qua all'operaio con... Con quel giondire che abbiamo al biogas. Perché così ricarichiamo qua sul campo. Va, facciamo così. Faccio il taglietto a fraporco. Allora, ragazzi. Rieccomi, rieccomi col mio JD e i miei semetti. Ok. Scendo. Rientro sulla mia... Sul mio bel trattorino. Allora, avviciniamoci. Tiriamo sugli indicatori di porchette. Ok. Perché dobbiamo andare a ricaricare i semettini. Semettini. Ok. Non so se si apre qua dietro. No, non si apre. Vabbè. Dai, facciamo così. Un po' innaturale. Ma va bene così. Va bene. Carichiamo. Ok. 100%. Ragazzi. Torniamo in interno cabina. Mettiamo l'indicatore di porchette. No! Che momenti spacco. Cioè, è troppo presto per metterlo. Aspetta. Stavo spaccando il JT, ragazzi. Stavo a fare un danno di milioni, di miliardi come le stelle. Allora, come dice la canzone. Le stelle sono tante, milioni di milioni. Io stavo facendo un danno come i pirloni. Allora. Vai. Ok. Abbiamo messo l'indicatore di porchette. Adesso, ragazzi, con l'indicatore di porchette basta andare sopra la vecchia strisciatina. L'ho già detto in altre serie. L'ho già detto in altre volte. Ma sapete che voi aumentate sempre. E quindi c'è sempre nuova gente. E quindi magari c'è qualcuno che non lo sa. Io lo ripeto sempre. Il vostro Robby ve lo ripete sempre, sempre, sempre. Allora, nel frattempo che io semino questo bel campetto. E tra l'altro mi sono scordato di mettere l'operaio. Giusto? Giusto. Mi sono scordato di mettere l'operaio nell'altro campo. Vabbè, dopo lo mettiamo. Vado a salutare, ovviamente, i soliti tantissimi che hanno... Innanzitutto saluti tantissimi, come al solito, quando ho seguito l'ultima puntata della serie, della serie Chiarello, che è una delle mie più seguite. Quindi grazie, ragazzi, a tutti e 250 viso al Mestri di Mimbracena. E' una cosa, ragazzi, bellissima. Ok. Che vi dovevo dire? Niente, che non ho alzato la seminatrice. Se era della realtà avevo fatto un disastro. Vabbè, grazie a tutti, dicevo, e 35 like, eccetera, eccetera. E adesso andiamo a salutare quelli che hanno commentato. Allora, innanzitutto, Stegge ID, che mi dice, bella accoppiata Fiat e Bossini. E della Fiat Gaspardo? Che mi dite? Della Fiat Gaspardo? Vedete Robby che accoppiate che vi fa, eh? Poi Tiger, che dice, anche Tiger, anche Tiger. Poi c'è Tiger, che anche lui ama questa fantastica accoppiata. E dice, vedi se trovi un bel same diamond. Ma pensi a Cello, un same diamond? Boh, non lo so. Poi vediamo un attimino in rimedio. Adesso, ma hai fatto bene il dubbio? Ma hai fatto bene il dubbio, Tiger? Perché siccome Tiger è uno che mi segue non proprio dall'inizio, quindi magari c'è e gli è sfuggito. Allora, Tiger, andiamo a vedere... Perché io un same ce l'ho. Un sametto ce l'ho, sono sicuro, che lo uso per i frutteti. Eccolo qui! Ah no, c'è un same dorato. Vedi, Tiger? Bravo, ci hai avuto occhio. C'è un same dorato. Vediamo un po' se trovo anche il same diamond da mettere dentro. Poi, ok, un attimo che qui, raga, non me posso distraere. Distraere, distraere, raga. Ogni tanto il dialetto che c'è in me esce fuori, ma voi so che siete comprensivi. Siete un pubblichetto comprensivo. E quindi non ci fate caso quando il vostro Robby dice qualche sfrontone nel suo dialetto natio. Ok, allora passo di qua. Ok, posso rimettere giù l'indicatore di suine. Ok, allora portiamolo dietro finché posso. Perfetto. E riparto, riparto, metto la marcia. E perfetto, arriva davanti. Poi saluto Xenon, che mi dice che andate in vacanza. Grande Xenon, li portate e ti sei, insomma, rilassato. Poi Massimo De Fazio, che dice che il fratello ha lavorato col G240 e il G220. Quindi beato lui che l'ha guidato per davvero e che soprattutto lavora, ragazzi, perché in questo tempo di moria di lavoro ve lo dice un disoccupato, purtroppo. Quindi in questo periodo sono disoccupato. Sono due mesi, purtroppo, che non lavoro. Quindi speriamo che la situazione cambi. Poi Gennaro, c'è Gennaro, un abbraccio a Gennaro. Davide, Davide640, cambia i filtri del gasolio al Fiat. In che senso? Con Giants Editor qui posso cambiarli, penso. Se fossi capace. Poi Davide Pastore dice bel video come sempre, grazie Davide. Oh, un momento che sto facendo casino con l'indicatore di porchette. Ok, tocca a te. Perfetto, abbassiamo la seminatrice e la riaccendiamo, ok. E poi Alex Game. Ciao Alex, che mi dice perché hai cambiato l'immagine del canale? Perché i ragazzi con la vecchia mi avevano un po' stancato. Un po' buia, devo dire. Un po' tutto sto nero. Invece i miei colori preferiti sono giallo e nero. E quindi ho deciso di far così. Credo che rimarrà questa immagine perché non credo che la cambierò più. Quindi giallo e nero. Giallo e nero. Mi piace il giallo e nero. Poi Robby mi saluto nel prossimo episodio. Dice Samuele. Quindi ciao Samuele, certo. E ti saluto. Taliesin. Dice bel video come sempre. Grazie Taliesin. Quindi ragazzi, sono finiti i commentini. Quindi è anche quasi finito il campo. Io ne approfitto per ricaricare ancora. Un attimo che non so se ho l'indicatore delle porche su o giù. No, ok. Io ragazzi ricarico. Ok. Perfettissimo. Poi metto un operaio su questo campo. Su questi due campi che... No. Anzi, sentite quante ne so. Metto... Quanti campi devo fare? Qui due. Quindi metto... Metterò ragazzi due operai. Ok. Metterò due operai. Uno sul campo laggiù. E uno qui. Allora questo lo facciamo a frumento. Quell'altro lo facciamo ad orzo. E questo qua... Che cacchio ci serve? Io direi di farlo a frumento anche quello. Perché veramente la farina per il forno ragazzi ne serve tantissima. Ci serve un sacco di farina. Quindi direi di fare a frumento anche quello. Quindi ragazzi adesso faccio un taglione. Non un taglietto. Proprio un bel taglione. Organizzo tutto il lavoro. E io me ne vado a seminare la risaglia. Così facciamo anche quel tipo di lavoro lì. Ok? A frappè. Ciao ragazzetti! Bentornati! Allora, sono sul campo di riso. Quello che dovrebbe essere il campo di riso. E sto seminando con la mia gaspardina pinta. Il risetto. Come vedete dall'icona. Quella è l'icona del risetto. Sulla chiarello hanno tolto tutte le icone. Scusate il rumore, ho sistemato il microfono. Hanno tolto tutte le... Dicevo, le scritte. E non so perché. E quindi bisogna andare così a orecchio, a occhio, a memoria. E questa è la... L'icona del risetto. Oddio, 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 oddio. Non ho accesa. A posto andavo a 200 all'ora. Dico, ma che è? Un attimo, eh? Un attimo. Accendiamo. Perfetto, perfetto, perfetto. Allora, che è successo sugli altri campi? Eh, niente. Sto mettendo gli operai e alla fine ho fatto tutto a frumento. Tanto l'orzo o frumento per il mulino non cambia niente. Quindi sempre farina ci fa. E intanto non fate caso alla pecora e alle pecore che compaiono sul tetto, in lontananza. Quelle sono pecore volanti. Le ho comprate proprio ad Amsterdam. Proprio so drogate, proprio dock, e volano. Vedono se fanno i viaggi cosmici, capito? Se fanno i viaggi. E niente, niente. Adesso, quando gli operai avranno finito di sistemare un po' i campi, mi daranno una mano qua. E tutti insieme finiremo di erpicare sto campo. Ho dovuto anche affittare una bella seminatrice grande. Quella del gioco, quella da sei metri. In modo che l'operaio con il Lamborghini, che è bello potente, desse una bella mano a tutto quanto. Quindi io, ragazzi, sapete cosa faccio? Adesso faccio un bel taglietto con il mio bel fan. E quando siamo tutti e tre sul campo, cioè a fare un grande lavoro di squadra, ci rivediamo e chiudiamo la puntata alla grande, con un grande lavoro di squadra. A fra porco! Eccoci, ragazzi, tutti e tre, appassionatamente. Guardate che squadra che siamo, ragazzi. Tre seminatrici sulla risaia. Quindi, ragazzi, ce lo stiamo mangiando, questo bel campettino. E tra un po', finiamo, ragazzi. Tra un po' finiamo. C'è un bel fan con la Gaspardo Pinta. C'è il nostro Fiat G240 con l'altra Gaspardina Dama, che sta andando dentro a un fosso, tra l'altro, ma va bene. E poi c'è l'operaio, l'altro operaio con il Lambo, che sta andando dentro a un fosso. Scusate, ma devo gestirli un attimo, perché vedo che è successa una cosa un po', un po', ovviamente l'intelligenza artificiale è quello che è. Allora, ragazzi, un attimo che libero questo, un attimo, e lo mettiamo qua vicino a me, così io ho l'intelligenza, perlomeno, di non andargli contro. Lì c'è una ballina che non abbiamo mai raccolto, e penso che rimarrà lì per sempre, a fare, diciamo, da confine, da confine. Ok, ma andiamo questo a lavorare, questo sta finendo. Allora, quella strisciata lì, gliela facciamo finire a lui, io vado di qua. Perfetto, ragazzi, vedete che c'è un gioco di squadra, c'è un grande gioco di squadra, ragazzi. Ok, dietro così, ragazzi, la Chiarella inizia a diventare un, come si dice, un'azienda, un'azienda, non è più qua un contadinozzo da solo che... Ma come cazzo sta a seminare? Ma che cazzo sta a fare? Ma che cazzo sta a fare? Scusate, ragazzi, sto volgare, ma quando ce vuole, ce vuole. Ma che sta a fare? Ma che sta a fare? Che sta a fare? Che sta a fare? Che sta a fare che? Guarda, fa una bella cosa, guarda, fa una bella cosa, mettete qua, sta buono, per carità. Ok? Ecco, buono così, fermo, che finiamo io e il lavoratore del Lambo. Eh no, scusate, ragazzi, io lo so che è brutto essere volgare, è una cosa brutta. Io, come sapete, sul mio canale cerco sempre di non di parolacce, di non far parolacce, però... Cioè, quando ce vuole, ce vuole, ragazzi. Non è una cosa ammissibile che tu metti un operaio a fare una cosa del genere. Cioè, qui non si tratta di... Io posso capire quando l'operaio artificiale ha l'intelligenza di non capire dove finisce il campo e va giù al fosso. Ma qui, cioè, si tratta proprio di non avere propria intelligenza artificiale. Cioè, è una roba vergognosa, assurda. Vabbè, comunque, tanto io troppo là, sapete che non ci vado troppo negli angoli, perché tanto poi c'è un problema con la trebbiatura, con l'erpicatura, e quindi evito, evito di andarci. Allora, ragazzuoli, abbiamo ormai finito. Avete mai sentito il detto che l'unione fa la forza? E in questo caso ha fatto una super forza, ragazzi. Quindi stiamo per concludere il campettino. Seminato un po' avversi, un po' strani, alla penne di segugio, ecco, per non essere volgare. Però va bene, dai, va bene così. Io, allora, vi saluto, ragazzi. Vi ringrazio di aver seguito anche questa bella puntatina della Chiarello. Mi raccomando, commentate, commentate, lasciate like, che è importante. E iscrivetevi al canale, condividete, ragazzi. Io dico sempre, facciamo sto gioco. Scrivete nei commenti. Cioè, condividete il mio canale con un amico. Facciamo sto gioco con un amico. E poi, ovviamente, lo scrivete sotto. Io vi ringrazio nel prossimo video. Condividete questo canale con un amico. Ognuno di voi con un amico. E vedrete che aiuterete di tanto il buon Robby. Poi vediamo quanto aumentano le iscrizioni, ragazzi. Vediamo se la vostra, se siete bravi come sponsor, come PR. Allora, condividete questo video con un amico. E scrivete sotto al video. Robby, ho condiviso il video con un amico. Vediamo quanto aumentano le visual. Io poi vi ringrazio nel prossimo video. Dai, facciamo sto gioco. Io detto questo vi ricordo a tutti che in descrizione ci sono tutti i miei social, ragazzi. E c'è anche il link di Instant Gaming, dove comprare giochi a prezzi veramente bassissimi. Detto questo, ci vediamo alla prossima puntata della Chiarello Farm. Ciao! Ciao! Grazie a tutti.